Dunque, accettare o no che l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori resti in vigore oppure no, mi riferisco stavolta non tanto al lavoratore dell'industria o di quanto rientri nella gestione di Cesare, ossia dell'economia, del mondo, di quella parte che traina tutto il resto, del mondo reale, che è un mondo poggiato sulla laboriosità umana. Accettarlo o meno quando siamo nel contesto dello Spirito, di quel articolo 18 che, come abbiamo visto proprio ultimamente, è la base della assunzione nel Nuovo Testamento di Pietro come il vicario di Cristo. Nel capitolo 16, quello della realtà 4x4, laddove 4 è il Dio uno e trino. Ma un momento, desidero spiegarvi questa questione di perché il Dio sia uno e trino. Chiaramente lo potete capire dal fatto che uno esprime un lato che fa parte di una terna di lati, perché quando noi andiamo a scomporre il volume, esso come dimensione è la dimensione 3 assunta da un lato. Lato, moltiplicato lato, moltiplicato lato, si presenta come lato elevato a 3. Quindi, sulla base 1, la trinità porta al 3 come a una dimensione di spazio di volume. Ma perché 1 e 3, quando sono tutti valori invece in lunghezza, sono da considerare una unità? Perché lo spazio è definito sempre tra tre limiti. Quando esiste su una linea, la geometria dice che un segmento di spazio è definito da due punti estremi e lo spazio compreso. Vedete bene che lo spazio compreso è definito dai due estremi. Quando noi abbiamo una crescita apparente, perché abbiamo 1, 2, 3, è un incremento ogni volta di 1, no? 1, 2, 3, è una crescita, è una scaletta che non è uguale. Ogni volta cresce di 1. Noi rappresentiamo in tre valori incrementali di 1, l'1 che si incrementa di 1 rispetto a 0, il 2 che si incrementa di 1 rispetto a 1 e il 3 che si incrementa di 1 rispetto al 3, lo rappresentiamo in tre parti. Infatti, il valore medio di tutto questo è dato dalla somma dei numeri 1 più 2 è uguale a 3 più 3 uguale a 6. Ma questo 6 nel valore medio è proprio dato da 6 che diviso per 3 è 2. Il valore medio è proprio quello che è posto in mezzo. Quando noi abbiamo un segmento che è espresso dal valore medio come distanza tra due estremi, il valore medio che sia uguale anche agli estremi dato da 2, 2, 2, 2, è 6. Anche se lo mettiamo come la perenne dimensione media 2, tanto che 2 più 2 più 2 è 6. Quando noi vogliamo rappresentare il valore medio, che è uno solo, attraverso i due estremi, allora dobbiamo estremizzare il 2, ossia sottoporlo a due processi uguali e distinti. Il primo toglie a 2 1 e lo rende 1. Il secondo, quel valore che prima si era tolto, ora lo si aggiunge e diventa 3, in modo tale che 1 più 3, 4, rappresentato da due estremi, sia uguale al valore medio 2. Quindi, quando noi vogliamo rappresentare il valore medio, quella distanza tra gli estremi, quel valore medio, che è sempre 2, perché è praticamente un piano, quella dimensione che esiste anche senza bisogno di esistere in uno spostamento, un puro piano, leggetelo anche come un puro progetto. Quando noi si parta da un puro piano, ossia da un puro progetto, che assume geometricamente poi la forma di piano, noi partiamo da due dimensioni. La creazione accade sempre così, perché abbiamo due esseri diversi, maschio e femmina, che si uniscono e determinano una prole. Ecco, la vita si costruisce in questo modo e quel figlio che viene fuori dai due è simile al flusso 1 che scaturisce da un piano tra due. Ma quando noi considerassimo soltanto il figlio 1 senza l'altro estremo che abbiamo tolto dal 2 per avere 1, infatti 1 è la relazione tra due. 1 è 1 diviso 1. N diviso N è 1 ma è dovuto da due. È il figlio di due che sono in combutta tra di loro e determinano un 1. Però, se in questo 1, che appare solo nel numeratore, noi non consideriamo più la presenza del denominatore, allora dobbiamo tenere conto anche di una condizione esattamente contrapposta a quella 1, che è quella 3, tale che 1 più 3 uguale 4 espresso tra due sia il valore medio dato da 1 più 3 è 4 espresso da due e dunque 4 diviso 2 uguale 2. Ecco tutto quello che bisogna tenere conto quando noi parliamo di un Dio 1 e Trino. Il Dio 1 e Trino sta solo nella sua funzione paterna di Padre e Spirito Santo che nel mondo reale è poi rappresentato da un Padre origine e da uno Spirito Santo che si lega all'aspetto femminile essendo lo Spirito Santo praticamente la donna. Lo è! Perché la donna è realmente l'immagine dello Spirito Santo. Nella nostra religione la cattolica la donna è la Madonna la quale è l'intermediaria reale sempre tra due amori contrapposti l'amore per il compagno che vorrebbe avere l'esclusiva dell'amore della compagna che però grazie all'amore che ha per la compagna vede uscire dalla compagna un figlio della donna che esce dalla donna e diventa il rivale del padre un vero e proprio rivale nell'amore se la donna non fa da giusto tramite tra l'amore per il compagno e l'amore per il figlio la donna è l'intermediaria quella condizione unitaria che esiste ed è espressa da quell'unico ovulo che esiste contro il padre che invece è ricchissimo in se stesso di vita di iniziativa perché mentre l'ovulo ha una sola condizione genetica nel suo dna il padre ha tutta una gamma di possibilità diverse e esiste proprio all'interno del padre una gara incredibile che la vediamo poi all'atto pratico come tutta quella corsa espressa naturalmente dagli spermatozoi che vanno alla conquista di quella roccaforte che è l'ovulo e il primo che riesce a superare quelle mura a entrare nella città ne diventa il re tutti gli altri defungono la vita in questi termini quella del padre sembra una vera e propria strage fatta dal padre affinché uno solo tra tutta la ricchezza e sovrabbondanza del padre possa divenire il padre reale quello che dà la sua composizione genetica al nuovo bimbo che cresce perché i vari spermatozoi che esistono ripropongono in varia composizione il raggruppamento genetico che ha il padre con la sua compagna cioè il padre di suo del marito diciamo no con sua madre componendosi in tutti i modi possibili e immaginabili ogni spermatozoo può essere una dotazione genetica particolarissima che prevede tutte quante le possibilità di combinazione genetica tra uomo e donna i spermatozoi che sono in una quantità enorme danno ai due genitori ogni possibilità di affermazione e poi la natura in un certo senso seleziona il più capace il più vitale il più abile in questa sorta di corsa alla sopravvivenza e perché uno si affermi c'è la strage di tutti gli altri è un disastro quello che accade nel padre a ogni atto di amore l'esplosione di una volontà di vita che va incontro a tutta una serie di stragi se pensate alla vita intera di un uomo che riesca a mettere al mondo anche dieci figli e con ciò decreti la soddisfazione di dieci spermatozoi usciti a un certo punto dal suo corpo e lo mettete in conto con tutte le eiaculazioni di milioni e milioni di spermatozoi avuti in ogni atto di amore venuto alla sua conclusione ecco vedete che questo mondo reale è praticamente diabolico perché da una quantità sterminata di volontà di esistere soltanto quando c'è un padre che ha molti figli soltanto dieci nell'arco di tutta la sua vita hanno il modo di far sopravvivere e vi dovete chiedere come mai il signore crei un mondo così difficile per la vita chi dice che è la selezione naturale che in questo modo difende la vita perché fa sopravvivere il più forte da credito a ciò che sembra accadere in questo mondo reale ma in questo mondo reale in cui sembra accadere di tutto nulla accade veramente perché ogni cosa è sempre lì praticamente bloccata nel suo spazio-tempo e quando noi vediamo che quel qualcosa evolve è semplicemente perché spostiamo la nostra attenzione da quello che è disegnato in quel punto di spazio-tempo su quanto è disegnato lì vicino e vedendo prima l'uno poi l'altro noi abbiamo l'impressione che sia la stessa cosa che si sia spostata in effetti la questione è abbastanza simile a questa perché all'atto pratico per determinare il mondo c'è l'attuazione di un calcolo questo sta alla base del mondo un calcolo 10 diviso 9 che a mano a mano che avanzano i tempi del calcolo che portano al valore in centinaia in decine in unità poi in decimi in centesimi in millesimi e si aggiungono tempi decimali a tempi decimali praticamente all'aggiunta di ogni tempo decimale nella linea del flusso corrisponde nella sezione del flusso praticamente una immagine che si sostituisce all'altra e noi abbiamo una visione frattale di un qualcosa che sembra divenire perché ha un fronte nel calcolo immediatamente successivo nel tempo immediatamente successivo che lo ha ridotto al decimo noi abbiamo anche un fronte che si è espanso per 10 mantenendo sempre i suoi numeri ma questa espansione per 10 si rivela come la sostituzione ad un disegno di un altro disegno che è diverso e noi vedendoli uno dopo l'altro abbiamo l'idea proprio della evoluzione di questo calcolo e il calcolo diviso in tempi di calcolo diventa il divenire che è visibile a mano a mano che i tempi del calcolo si sostituiscono uno all'altro e le sezioni frontali di questo calcolo si sostituiscono l'una all'altro e determinano una visione di tipo frattale che sembra divenire ma che non diviene perché semplicemente è un calcolo che si ecco quando c'è questa verità del calcolo alla base di tutto tutto è coerente tutto quello che noi vediamo non dipende da altro che da questo calcolo la nostra volontà sul calcolo non ha nessun influsso e non può averlo noi abbiamo però il ruolo come spiriti che osservano e fanno proprio il disegno descritto attraverso questo calcolo di interagire con questo mondo virtuale creato usando i numeri da dio ossia dal valore fondamentale che esiste ed esiste perché esistiamo noi ne abbiamo la certezza che un qualcosa esiste dal momento che noi esistiamo quindi alla base di tutto c'è questa forza di esistenza in sé che dio descrisse proprio ad abram a mosè come io sono chi sono ossia sono l'essere di questo mio essere ecco anche io sono l'essere di questo mio essere ma l'essere è l'essenza fondamentale la causa del mio essere relativo e dio si descrisse proprio così egli era ed è l'essere di ogni essere e ognuno di noi essendo così l'essere del proprio essere noi abbiamo il proprio essere come il personaggio e l'essere del personaggio sta nel movimentatore del personaggio ossia da quell'attore che si fa carico di un personaggio teatrale e mette in scena quel disegno che è dovuto non all'attore ma allo scrittore dell'opera regolato dal regista dell'opera e con ciò l'attore è necessario perché pone atto al disegno divino se lo pone atto proprio legando se stesso alle intenzioni non del personaggio ma dell'autore dell'opera allora abbiamo un attore che ha capito che sta partecipando a una opera che ha un padre se non capisce che il fine è la totalità dell'opera ma capisce che il fine è il personaggio che sta interpretando non ha capito niente perché darà anima al personaggio legandosi nei suoi interessi al personaggio e non arrivando più a capire che è compartecipe ad un'opera e se la sua parte è buona cattiva o no non è suo compito perché in un'opera che sia vincente ci deve essere descritto un male che deve essere superato e qualche attore deve interpretare la parte del cattivo allora a questo punto l'attore che diventa chi mette in atto il personaggio cattivo lo fa ma non lo fa proprio lo fa sapendo che esiste questa necessità che non corrisponde minimamente alle sue intenzioni e la vera libertà dell'attore sta proprio quella di dire sì o no le faccio mie proprie o no le cose che l'attore deve dire deve fare perché un altro gliele ha descritte pianificate quando Gesù dice dite sì o no il di più è del maligno è come se dicesse all'attore tu sei chiamato a dare vita a un assassino quando vedi il tuo ruolo il tuo personaggio compiere un assassinio dici no io lo compio perché sono qui che sto partecipando a un'opera ma io se potessi non mi piace questo che sto facendo prendo le distanze da quello che sto facendo e in questo modo Dio lascia libere veramente libere tutte le anime sue che sono chiamate alla rappresentazione tragica che è in atto è una rappresentazione talmente tragica come vi sto dicendo che dei miliardi di miliardi di miliardi di soggetti vitali di tutti gli spermatozoi eiaculati da un uomo nell'arco di tutta la sua vita se è un padre di dieci figli soltanto dieci arrivano a sopravvivere sembra un mondo crudele sembra un mondo cattivo ma non lo è è solo un disegno che Dio vuole per porre le cose sentimentali in modo concreto cosa significa che Dio puro spirito concepisce l'amore ma quell'amore che sia solo sentimentale che sia basato solo su proprio uno stato d'animo di chi ama e non abbia modo di esprimersi in una concretezza è limitato solo a un aspetto praticamente ideale e non entra nel campo di una determinazione di una concreta delimitazione di soggetti limitati quindi la incarnazione in un soggetto consente all'uomo un amore tra soggetti reali che abbiano modo di scambiarsi un amore reale un amore concreto e dunque la creazione di Dio sta nel determinare questa concretezza che è un limite che però è un limite creato apposta per superare quel limite è il peccato originale che è necessario per una redenzione spirituale di ogni animo che sia chiamato a interpretare una parte qualunque determinata e a salvarsi da essa proprio in modo elettivo devo fare questo vedo fare questo ma io non voglio oppure io voglio in una condizione in cui tra il volere e il potere vero non c'è nessuna 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 corrispondenza c'è solo la corrispondenza formale perché in realtà ripeto esiste come un film in cui c'è un fotogramma in cui per esempio c'è un padre e dall'altro c'è un padre che ha avuto il figlio non c'è nessun divenire tra il primo e il secondo sono due frammenti diversi di un modo di essere c'è questo essere e quest'altro essere se io li metto in sequenza un uomo senza figli e dopo un uomo con il figlio ecco sembra che l'uomo ha avuto un figlio ma ci sono sempre tutti i casi possibili e immaginabili all'interno di Dio e il percorso dentro tutti questi casi diventa quella stupenda avventura dell'essere che partendo da un tutto espresso in un numero che vale attimo dopo attimo nella sua concretezza assoluta in quell'attimo sia consentito non di vedere quella verità nel suo totale essere n momentaneo nel momento del calcolo che è arrivato solo alla definizione di un certo dettaglio ecco in quella presenza in cui il tutto è n l'uomo vede un ennesimo e vedere un ennesimo di n lo porta inevitabilmente a non vedere tutto quanto n tutto quanto n lo vedrà solo alla fine di tutta una rappresentazione di n tempi ennesimi uno dopo l'altro sempre un ennesimo la visione uguale e contraria implica che esista n se noi nella nostra visione dell'ennesimo abbiamo una visione veramente definita perché per definire l'ennesimo noi dobbiamo avere sia uno sia un valore n preciso ma se noi abbiamo il valore n preciso in un ennesimo dunque questo attimo fuggente sia determinato e sia preciso questo nel suo essere uguale contrario è tutta la presenza n che noi ancora però non abbiamo visto perché nel modo temporizzato di vedere n attraverso i singoli ennesimi noi mettiamo in sequenza un ennesimo solo dopo un altro ennesimo solo e vedremo tutto n nella forma di un divenire perché a sostituire un n con l'altro ennesimo noi crederemo che un ennesimo sia diventato quell'altro e invece quell'altro è proprio un altro il divenire dell'essere non c'è aveva ragione parmenide della scuola eleatica che diceva che una cosa sola esiste anche nel divenire che tutto sempre è indipendentemente dal fatto che sia ieri oggi o domani tutto sempre è e dunque l'essere è il fondamento di tutte le cose invece dopo di lui è venuto eraclito contemporaneo a lui a discutere dicendo che la nostra realtà nel suo essere vero è proprio il divenire dell'essere che mentre è diviene nella sua forma e anche lui ha le sue buone ragioni ma vedete la ragione dell'essere è quella fondamentale la ragione dell'apparente modificazione dell'essere è quella dell'apparire una è vera nel suo essere l'altra è vera nel suo apparire momentaneo dunque delle due una è veramente fondamentale quella eleatica l'altra è secondo una visione che a questo punto potrebbe essere secondo due versi quello avanzante e quello retrocedente ogni dinamismo è dovuto sempre da due uguali e contrari e se noi vediamo un avanzamento è perché esiste l'arretramento di quello che vediamo avanzare perché noi dobbiamo pensare che il punto in cui noi stiamo andando con il treno della nostra vita simile a un treno che va verso il suo binario morto può esistere in quella condizione del binario morto se da lì prima il treno è partito solo se prima il treno è partito da lì può ritornare lì perché in quella condizione zero esistente noi possiamo tornare a zero se prima ci siamo allontanati da zero ecco allora il divenire di eraclito comincia non essere più assoluto è una forma diveniente di una sola determinazione in un verso che è dovuto a quell'altro e di conseguenza mentre credi che quello che vedi sia vero invece è la verità di quell'altro mentre tu credi che questo mondo sia vero esso è dovuto alla verità del mondo altro di quel cielo in cui nell'alto tutto parte da lì e discende dal cielo e noi poi lo vedremo ritornare in cielo ecco a questo punto si arriva a capire che mentre la condizione dell'essere che aveva dichiarato Parmenide è totale l'essere si esprime anche nella duplicità dei due versi del divenire e quindi il divenire non è uno solo ma sono due in uno e allora se sono due in uno e noi vogliamo sapere cosa è veramente tra i due estremi noi dobbiamo sommare i due estremi dividerli per due visto che sono estremi di una sola cosa e con uno più tre uguale quattro abbiamo due estremi visto che sono due il valore medio è uno più tre diviso due il valore medio è due quindi grazie all'unità e trinità di Dio noi stiamo esprimendo la condizione due del padre nostro che sta nei cieli quel padre che non non si vede ma che nel mondo reale apparirà negli estremi di un essere uno e di un essere tre perché la verità sta nel suo essere due che è la somma tra uno e tre e così facendo si presenta come due quando nel nostro sistema noi avremo poi che il valore uno assumerà il valore trascendente zero uno che è dieci l'unità dieci sommata alla trinità tre porterà a un tredici ma noi per poter vedere tutto dovremo a questo punto considerarlo due volte perché lo abbiamo trasceso come tredici ma essendo l'immagine di una duplicità devono esistere due volte queste duplicità e tredici più tredici uguale ventisei è proprio il valore assunto da che cosa un venti che esprime dieci e dieci e un sei che esprime tutti i sei versi che esistono davanti dietro destra sinistra sopra sotto quindi è un piano unitario in dieci e dieci che va da tutte le parti questo è ventisei ma ventisei quando noi poi lo andiamo a rappresentare in modo dinamico ma concettuale prendiamo i numeri li trasformiamo in lettere e con le lettere creiamo i concetti e allora a quel punto il ventisei che noi abbiamo ottenuto trino perché Dio deve essere trino dobbiamo esprimerlo con tre livelli di grandezza la prima assoluta è l'unità e trinità dunque è quattro e A B C D metteremo la D poi abbiamo che questa unità compie tutto il suo percorso nel dieci e tutto il suo percorso è nove perché uno e dieci sono i due modi che esistono di vedere io zero uno e voi dieci e dunque tutto il percorso di differenza tra dieci e uno è nove questo ha tutto il percorso allora se uno è dieci tutto il percorso è nove e allora si aggiunge la I alla D e si definisce D la terza condizione non è più il percorso ma diciamo è la circolarità del percorso è proprio l'unità e trinità come dieci più tre tredici ancora perché D dato da quattro più nove è tredici quindi abbiamo un tredici dato dalla D e un tredici dato dalla O e viene fuori un ventisei a dimensione tre in cui l'ultima è a dimensione intera tredici e le prime due si definiscono una come le quattro dimensioni e l'altra come tutto il percorso delle quattro dimensioni e in tal modo la struttura dinamica intera assume il significato proprio posto attraverso quei valori di dinamismo che si esprimeranno con il termine di Dio ma io sto dicendovi tutto questo e sto mettendovi in atto delle questioni che sono andate molto lontano dalla condizione da cui io ero partito da che condizione io ero partito dunque accettare o no che l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori resti in vigore oppure no bisogna distinguere proprio i campi di attuazione perché c'è il campo reale che per come vi ho fatto capire è un campo in cui appare una messa in scena e invece c'è una funzione assoluta e vera che è la abolizione totale di questa messa in scena fino a quando noi diamo importanza alla messa in scena reale noi abbiamo i sentimenti per questa realtà e siamo sopraffatti dai sentimenti perché essi ci tolgono quella libertà interiore di superare gli stessi sentimenti in virtù di quanto sia giusto anche se sentimentalmente possa sembrare doloroso ecco oggi per un cristiano sentimentalmente è doloroso poter accettare l'idea che il santo padre che è stato investito da Gesù Cristo del ruolo di suo vicario perda questo ruolo di vicario di Cristo però bisogna andare alla verità e essere in un certo senso dotati della stessa spietatezza di Dio Gesù lo dice a Pietro proprio quando Pietro per il sentimentalismo legato all'affetto umano e reale che egli aveva per Gesù Cristo quando sente a Gesù dire che doveva andare a Gerusalemme dove lo avrebbero imprigionato le avrebbero fatte di tutti i colori e infine lo avrebbero ucciso per quel sentimento di affetto lecito umano nei confronti di Gesù passava sopra al disegno di Dio della salvezza da ottenersi grazie proprio a un sacrificio questo è quello che Dio vuole fare conoscere la salvezza che venga da un estremo sacrificio qual è l'estremo sacrificio che è visibile proprio nella procreazione di un uomo lo sterminio spietato di tutti gli spermatozoi se lo sperma non finisce in un luogo fertile se è frutto di un rapporto di amore che non può portare in alcun modo a quella fertilità e quindi a quella possibilità di successo della vitalità interna del padre ecco quando uno solo magari tra tutti gli spermatozoi miliardi di miliardi di miliardi si afferma in un uomo che ha un solo figlio se ce l'ha e quando in tanti uomini mai nessuno di essi giunge a dare luogo a un figlio c'è un sacrificio mostruoso che più grande di così non potrebbe esistere allora o si capisce che questo sistema così come appare punta sul sacrificio punta come a ciò che è giusto è buono perché chi è eletto lì tra tutti gli altri che sono sacrificati gode proprio del vantaggio legato al sacrificio degli altri la vita è così l'uomo non può sopravvivere in questo mondo così come appare senza il sacrificio della vita altrui nemmeno lo spermatozoo di un uomo che vince la sua lotta può determinare la sua vittoria se non sulla base di uno sterminio infinito di vita di semi di vita dunque quando il buon seminatore Dio nella parabola di Gesù Cristo sparge il seme ovunque e una parte finisce sulla strada dove nessuno lo farà crescere è questa la grandissima la grandissima la grandissima parte di tutto il seme umano la vita si fonda su un sacrificio e se uno la vuole vivere nel senso che ha la vita l'uomo si deve sacrificare se non capisce che egli gode di un sacrificio altrui e deve fare la stessa cosa intendendosi proprio come soggetto di sacrificio se l'uomo non arriva a capire questo non si è visto proprio in linea con la vita ma ne ha osservato quella sorta di sentimentalismo che lo porta al desiderio di sopravvivere e di far sopravvivere coloro che si amano non è che bisogna non farli sopravvivere gli altri umanamente questo è il bene ma il bene degli altri della sopravvivenza degli altri in un certo senso è rovesciato dall'uomo che vistosi beneficiato di questa sua possibilità di esistenza deve annullare se stesso affinché tutti gli altri sopravvivano grazie al suo sacrificio per cui è una risposta totalmente simmetrica nei confronti di un enorme sacrificio volto a tirare fuori un primo che se è giusto si deve porre a sacrificio di tutti gli altri che si sono sacrificati per lui ecco quando l'uomo arriva a capire questo esce un po' dal sentimentalismo e confida in Dio che ha creato questo campo stranissimo di esistenza in cui non c'è solo il seme ma c'è tanta 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 zizzania che quel seme lì che arriva a maturazione è proprio spesso quasi inesistente nel campo della nostra vita reale quando un uomo non ha un figlio ma vedete tutto questo non è condizionato all'egoismo di un uomo che abbia un figlio anzi è proprio quando un uomo non ha un suo figlio proprio che può idealizzare totalmente se stesso e trasformare tutti quanti gli altri in figli propri agendo proprio in un modo grandioso come grandioso è Dio che impegna se stesso per far esistere tutti i suoi burattini in cui poi egli si riproietta come in figli quando Pietro che ha avuto la delega da Gesù di fondare su di lui la chiesa assume aspetti di non comprensione più che Gesù è il figlio di Dio e se dice io vado lì deve essere capito come ciò che è detto dal figlio di Dio e risponde a Gesù che Dio ti scampi da tutto ciò allora immediatamente si sta proprio dissociando dal credere che Gesù e Dio siano la stessa cosa e Gesù sia l'espressione filiale di un Dio perché dice che Dio ti scampi da tutto ciò ho amato Gesù e nega a Cristo in sostanza quel suo essere Cristo e in questo aspetto diabolico assunto da troppo amore di Pietro Gesù prende totalmente le distanze e smaschera come satanico quell'atteggiamento perché l'atteggiamento satanico è quello che non porta a gradire un sacrificio noi abbiamo bisogno che tu viva e rifiuta a Cristo che Cristo si sacrifichi per amore di tutti questo è atteggiamento satanico perché Satana in virtù di quell'amore che esiste tra gli uomini induce come lo induce un dottore che vedendo un uomo con una piaga nelle gambe che se non sono tagliate induce una cancrena in tutto il corpo e poi muore non taglia con durezza di cuore quella gamba e rende tutto il corpo in modo tale da mandarlo in rovina ecco ci deve essere una giusta comprensione dell'amore perché il vero amore che si ha è quando non si ha paura minimamente delle conseguenze di un atteggiamento di questo tipo qui in cui se io idealizzo il sacrificio poi non lo faccio solo per me lo idealizzo anche per te io so benissimo che se io idealizzo il sacrificio anche per te come fa Gesù se volete essere dei miei caricatevi anche voi della vostra croce sacrificatevi anche voi e questo è quello che dice Gesù agli altri per il vostro bene sacrificatevi anche voi e se uno prende sul serio Gesù e si sacrifica Gesù capisce che ha indotto gli altri a fare il bene e non il male ma nel nostro mondo quando noi vediamo un nostro amato che si sacrifica immediatamente vorremmo vorremmo impedire a lui quel sacrificio che è il suo bene e allora non capiamo proprio niente perché andiamo a configurare il bene altrui non più nel sacrificio altrui ma nella rinuncia al sacrificio in questa cosa qui c'è il centro del cristianesimo e quando non si capisce e quando non lo capisce più un pietro che dovrebbe essere proprio il vicario di cristo allora non capisce più cristo non capisce più un cristo ecco questo è quello che è successo ai papi a mano a mano che sono andati avanti nel tempo e si sono affinati nella loro fede grazie a dio e a progetto di dio perché non è l'uomo che crea queste cose qui capace o no di farle trasformare è così il disegno di dio un disegno che si perfeziona a mano a mano che avanza ma si perfeziona proprio attraverso l'uso di limiti sempre più grandi e sempre più da superare e dunque negli ultimi tre papi il signore ha posto in piedi proprio lo stesso limite che pose in pietro quando assunse quell'atteggiamento nei confronti di gesù e oggi in che cosa abbiamo noi e in che cosa riconosciamo noi un pietro il papa il difensore dell'umanità colui che si opera in tutti i modi affinché il sacrificio non faccia parte della vita umana ci sono cristiani che sono sacrificati dove dall'isis che sono quei musulmani che oggi stanno creando questo quadro questa rappresentazione di un popolo che ha un'altra fede che sottomette e dice ai propri abitanti o divenite islamici e rinnegate cristo oppure noi vi uccidiamo e udite il santo padre non deve accadere questo sacrificio ora se fosse chiaro il papa e dicesse ringraziamo il signore che esiste questo sacrificio ancora oggi di martiri cristiani il nostro cuore per questo è pieno di dolore perché ci rendiamo conto che sul sacrificio si imposta la creazione di dio e lo capiamo e comprendiamo anche se abbiamo nel cuore tutto il sentimento che vorrebbe che noi mutassimo il disegno di dio troppo sacrificio signore tu ci hai dato il compito di cambiare la situazione e allora io voglio che questa situazione di sacrificio cessi è grandiosa sotto il profilo del sentimento umano ma è la logica del mondo e non la logica di dio gesù cristo ha bisogno di un vicario che segua la logica di dio e non la logica di questo mondo perché poi le cose non sono così limpide perché la logica di questo mondo porta a non considerare il poco il piccolo in virtù della grande considerazione data ai grandi numeri e se c'è in una condizione qualcuno che sia costretto a patire le violenze altrui visto che è uno solo è la logica già che a suo tempo portò alla morte di cristo è meglio che perisca uno solo ma non tutti quanti ma è proprio quando all'interno dell'umanità si accetta che uno solo abbia il peso del benessere di tutti gli altri e proprio quando si accetta questa logica umana vedete si accetta proprio che ci sia una vittima di tutti gli altri ma non in virtù del valore di questa vittima no in virtù del benessere di tutti gli altri e allora è il benessere di tutti gli altri l'attenzione è una attenzione fuorviata che fa a questo punto dei quelli che non fanno parte della maggioranza delle povere vittime le quali vittime sono veramente vittime e sono volute così da chi umanamente dice io non posso salvare tutti e allora mi dispiace per coloro che io non riesco a salvare ma sono fatti loro io sto cercando di salvare la maggioranza perché se uno solo muore e non sono riuscito a salvarlo ho salvato gli altri questo nella presunzione di essere noi i salvatori degli altri ci porta ad accettare l'idea che uno non sia salvato io quello lì non lo voglio salvare perché se io volessi salvare lui dovrei mandare tutti gli altri a ramengo io non posso volere occuparmi soltanto di lui perché è uno solo contro tutti gli altri se io mi accorgo nella satanica presunzione che tutto dipenda dalla mia azione che la mia azione a favore di uno danneggi tutti gli altri e io poi non faccio niente per quello lì non volendo fare niente per quello lì proprio perché spinto dall'opportunismo io nella falsa idea che mi ha indotto satana che sono io che faccio ho evitato di volere intervenire a favore di uno proprio perché è uno che non conta niente nel confronto di quanto contano gli altri la logica di Cristo è perfettamente rovesciata rispetto a questa se c'è uno quello lì è più importante di tutti ognuno è più importante di tutti ma essendo ognuno più importante di tutti sono salvati tutti perché non esiste un tutti che non abbia dentro tanti uno e se non si salva e non si vuole il bene di ciascuno non ci può essere un gruppo grande 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 che è amato se si accetta che uno solo finisca male chi è buono ha la volontà di salvare tutti sapendo anche che è impossibile ma non lasciandosi dominare dal fatto che sia impossibile e l'uomo a questo punto arriva a volere l'impossibile volere l'impossibile è la vera libertà che l'uomo ha perché non si fa condizionare dal fatto che sia possibile oppure no perché se l'uomo si fa condizionare dal fatto che una cosa che noi vogliamo sia possibile o no e allora vogliamo solo una cosa che è possibile noi siamo opportunisti perché scegliamo cosa volere non sulla base della nostra libera volontà ma sulla base dell'opportunismo ecco dunque poiché dio punta al nostro agire spassionato per il vero bene di ciascuno e il vero bene di ciascuno si ha quando qualcuno lì è convinto egli pure a caricarsi della sua croce allora l'intenzione che si deve avere è di abbracciare chi è lì messo in croce perché riconosci che è a immagine di dio e più vedi uno martoriato angariato e sottomesso più lo ami più gli vai incontro più lo abbracci più curi tutto lui Gesù lo descrisse nella pecorella smarrita il buon pastore quando sa che una pecorella si è smarrita abbandona tutte le altre e la va a cercare e quando la trova raduna gli amici e fa festa avevo smarrito una pecorella l'ho trovata ecco ho una dramma perduta una moneta che è caduta sul suolo sconnesso e si è infilata lì magari tra le mattonelle e allora la padrona di casa spazza 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 nel cercare questa moneta e poi finalmente la vede lì nascosta tra le fessure di due la prende raduna le amiche e fa festa gesù vuole che si vada a cercare chi non conta niente chi è la vittima e perché per fargli festa perché è nell'immagine di cristo un papa che non va a cercare la pecorella smarrita che è a immagine di cristo è un anticristo c'è poco da fare è un anticristo perché cristo esatta i piccoli se un papa non esatta i piccoli perché non contano niente essendo opportunista perché pensa ai grandi numeri e allora anziché destinarsi a dare umilmente aiuto a un poveraccio dice ah il mio compito è immenso io ho a cura tutta l'umanità e allora non fa niente per nessuno perché si preoccupa soltanto di parlare in televisione di muoversi e parlare alle folle oceaniche e così facendo crede di potere a ampio raggio ma quel contatto a tu per tu con quel poveretto che non ha altro nella sua vita che la speranza di incontrarti perché ti ama ed è a vera immagine di cristo perché è un povero tartassato è uno che non conta niente e vuole vederti e tu lo respingi non lo cerchi e sentendolo che ti chiama fai finta di non udirlo e ti credi corretto rappresentante di cristo o caro sua santità non ti accorgi più che il tuo regno non è il regno di cristo Gesù fu chiarissimo volete sapere qual è il controllo da fare se state seguendo o no quello che io dico cosa dicono di voi vi lodano e allora state bene attenti perché se vi lodano significa che voi state seguendo la loro logica e non quella di Dio ecco quando sono morti gli ultimi papi c'erano i re del mondo tutti a lodare il papa e se tutti lodano il papa è perché il papa ha sposato interamente la logica del mondo quel peccato che Gesù aveva rimproverato a Pietro perché per il fatto che egli sarebbe morto si opponeva ecco e fino al punto da dire va del retro satana ecco quel peccato lì si è istituzionalizzato nel Vaticano il Pietro non fa altro che quello è totalmente divenuto così e allora non rappresenta più minimamente Cristo perché e io sono testimone io mi sono posto come pecorella smarrita in tre occasioni non ho digiunato non ho mangiato per 193 giorni sotto tre papati mettendo la mia vita nelle mani del papa come la pecorella smarrita e non mi ha cercato allora se egli non rispetta più Cristo si è messo fuori di Cristo ma l'articolo 18 quello famoso che reintegra vale o non vale visto che è proprio il versetto 18 di quel Vangelo numero capitolo 16 di San Matteo che ha istituito Pietro come tu sei Pietro e sulla tua pietra io edificherò la mia chiesa ecco quel versetto 18 che praticamente assume il lavoratore Pietro nell'ottica del lavoro a cui Gesù lo spingeva a pascorare le sue pecorelle nel momento in cui c'è una pecorella che si propone a lui ed è proprio snobbata perché non conta niente è proprio la dimostrazione che quello che ha detto Gesù avevo fame e non mi avete dato da mangiare quando mai signore tutte le volte che lo avete fatto al più piccolino dei miei non lo avete fatto a me in verità in verità non lo avete fatto a me in verità in verità allora come volete che possa sopravvivere un Pietro che in verità in verità non fa a Cristo quello per cui Cristo per tre volte lo ha istituito ecco questa funzione di Cristo è perduta da Pietro e Gesù Cristo l'aveva anche precisata sempre nel 18 articolo 18 stavolta come dismissioni di Pietro in Giovanni capitolo 21 quando sarai vecchio un altro ti cingerà le braccia e ti porterà dove non volevi un altro Pietro perché tu non lo volevi fare più il Pietro e allora c'hai quell'altro Pietro che è venuto dopo il Francesco che ha ridotto te a Papa emerito condotto da un altro dove tu non volevi più andare perché credevi che Cristo ti avesse eletto per la tua capacità e non per il tuo amore poiché di fronte a una chiesa del genere in cui perfino un Papa che è teologo si dimette perché crede di essere stato investito da Dio per la sua capacità mentre invece Dio lo ha investito per il suo amore ecco arriva a credere che sia giusto che indipendentemente dall'investitura eterna che Dio ti ha dato tu possa fare come un uomo normale che quando arriva alla fine della sua capacità smette di lavorare se ne va in pensione e tutti dicono è giusto fare così finalmente anche il Papa si è deciso a impedire di essere un Papa decrepito che non fa più niente come non faceva più niente quel povero lì di Papa Giovanni Paolo II che invece è arrivato alla vecchiaia estrema in cui non poteva più nemmeno parlare e rimaneva lì sul campo ah finalmente non si va più così finalmente quando arriva al momento opportuno il Papa se ne va in pensione perché è giusto che la capacità del Papa regga la Chiesa mostro a sentirsi di un Papa che regge la Chiesa c'è solo Dio che regge tutto non certo il Santo Padre ma il Santo 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 Padre che è nel cielo non il Santo Padre questo Santo Padre è una configura che vale se configura se è la controfigura voluta da Cristo ma se non è più nemmeno questa controfigura perché fa le cose che crede lui in virtù della sua credere umano non è più degno di reggere il regno di Dio su questa terra ed è tolto di mezzo resta quello che ha voluto essere e a questo punto scatta quell'articolo 18 del Statuto dei Lavoratori italiani perché a questo punto Dio toglie di mezzo la proprietà dello Stato del Vaticano il Papa come espressione di Cristo non ha alcun governo reale su questo mondo in questo mondo è il governo di Cesare non di Dio e un Papa che si pone come Cesare che ha il suo regno non ha senso basta regno del Vaticano basta e allora che cosa resta l'Italia e nello Statuto dei Lavoratori italiani anche il lavoro svolto da un Papa è accettato perché ci sono tutti i sacerdoti che lavorano alla vigna di Dio e il Vescovo di Roma rimarrà reintegrato nel suo ruolo ma a fare uno come fa tutti gli altri che se segue la volontà di Dio la segue se invece vuole occuparsi ancora della realtà di questo mondo fatti i suoi arriverà egli pure alla verifica di queste cose perché Dio consente a tutti di verificare ciò che è la verità delle proprie intenzioni e quando arriverà questo redder azionem fatto anche avere al Papa egli pure si convertirà finalmente alla ragione di Cristo e sarà grato a Cristo perché si sarà sentito perdonato da Cristo nonostante quel triplice fallimento di un Cristo venuto veramente nei panni di un povero Cristo e affamato per 193 giorni spietatamente non riconosciuto perché secondo un'ottica di cui il Papa non si può interessare della gente comune specie quando non conta niente ecco di fronte a questo resta proprio la funzione di sacerdozio che hanno tutti quanti gli altri ma si toglie di mezzo quel primato dell'infallibilità del Papa che aveva avuto ragione d'essere finché due giorni or sono Dio venuto e incarnatosi in verità nella povertà estrema di me stesso non ha voluto che io togliessi di mezzo una volta per sempre questo potere concesso da Cristo a Pietro e che già in partenza aveva la sua delimitazione espressa proprio nel versetto 18 che giustamente Giovanni che considera e dice questo disse ossia un altro ti porterà dove non volevi per indicare come Pietro sarebbe morto non disse solo questo anche come questo incarico dato a Pietro in carico divino sarebbe morto sarebbe rimasto poi Pietro in tutta la gerarchia che esiste nella fede come è ogni altro uomo nel tentativo finale della provvidenza di passare da quel sistema di un solo responsabile a una intera collegialità rappresentata da tutte le fedi in Dio che spinte dallo spirito santo di Dio arrivino a essere pilotate verso una rappresentatività estesa della volontà di Dio e non più solo accentrata in uno come la nostra società è passata dai regni ai presidenti della repubblica allo stesso modo Dio vuole passare da quel rappresentante unico tipo re nella fede a un sistema esteso generale che è ostacolato da un re perché il dominio non può essere più di un re deve essere di una collegialità e su queste linee già da tempo è avviata la chiesa quanti nella chiesa cattolica oggi danno ancora importanza a quella delega a Pietro di rappresentare in se stesso tutta la chiesa quanti nemmeno il Papa che si affida alla collegialità per esprimere poi e ratificare quello che fanno gli altri allora questo che hanno già compiuto come un grande peccato nei confronti di quello che Dio volle che fosse impersonato in una sola persona questo che già è stato compiuto da questa seconda persona a mano a mano che ha delegato ai concili alle radunanze quello che era il suo compito voluto proprio in lui questa che è stata la via scelta dai vari Pietro alla fine finisce per essere anche la condanna dei Pietro a essere tolti di mezzo come il re e ritornare a essere proprio quello che ha detto Papa Francesco quando è entrato nel seggio e ha detto io sono il vescovo di Roma nella mia funzione di vescovo di Roma io sono uno che è venuto dall'altro mondo eccetera 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 ecco il Papa ritornato al vescovo di una Roma che conserva sempre il simbolo di quella essenza del potere di Cesare ecco il vescovo di Roma è un vescovo col potere di un governante del regno di Cesare ma di fronte a tutto ciò il Signore non è più disposto a dare quel credito a Pietro che per primo non ha voluto assumere come le cose vere in cui credere perché Pietro è arrivato a sposare interamente la logica del mondo e come tale è riconosciuto come un grande uomo di questi tempi tanto che a ogni morte di Papa ci sono tutti gli altri regnanti come lui che accorrono a rendergli omaggio Gesù l'aveva detto quando tutti vi lodano state attenti perché non state più dicendo le cose che dico io è riconosciuto che è riconosciuto Grazie.